Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. In A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Nevicata in atto sulla statale 67 Tosco Romagnola tra San Godenzo e San Benedetto in Alpe. È prevista neve in A1 tra Sassomarconi e Rioveggio, tra Aglio e Barberino di Mugello e sulla variante di Valico e in A15 tra Borgotaro e Pontremoli. Nevischio in A1 tra Rioveggio e Aglio e in A15 tra Berceto e Pontremoli. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della linea 3 della tramvia da domani fino al 24 febbraio sono previsti in Viale Strozzi sul lato Via Ridolfi dei restringimenti di carreggiata. Rimarrà una corsia in direzione di Viale Lavagnini. Muoversi in Toscana Info è un servizio, un collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio!